Abre il ciclo del Tessile è presentato il progetto che si candida per i finanziamenti del PNRR, non mancano le polemiche. Luca Giusti confermato presidente di Confartigianato e ha il suo terzo mandato, eletta anche la nuova giunta. Donna pizziata e rapinata da due uomini in centro mentre stava tornando dal lavoro. Usavano disturbatori di frequenza per commettere furti su auto e camion, arrestati due fratelli. Buonasera dalla nostra redazione, presentato il progetto del Lab del riciclo del Tessile che si candida per i finanziamenti del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ma non mancano le polemiche anche all'interno del PD. Biffoni lancia un messaggio ai suoi. A 14 giorni dalla scadenza del bando per i fondi non è possibile galleggiare. Tra gli addetti ai lavori lo chiamano già Cenciaiolo 4.0, parte infatti dalla tradizionale sapienza dei Cenciaioli Pratesi, trasformandola in un sistema altamente digitalizzato, Lab del Tessile che l'amministrazione comunale ha candidato come progetto per ottenere i finanziamenti europei del PNRR. L'impianto che sarà realizzato e gestito da Alia su terreno di proprietà comunale in via di Baciacavallo consisterà in un capannone di 7.800 metri quadrati che selezionerà gli indumenti idonei al riutilizzo e alla successiva emissione nel ciclo produttivo. A fronte di una prima cernita manuale per l'estrazione di bottoni e cerniere, gli indumenti passeranno sotto dei sensori ottici capaci di riconoscere e differenziare i tessuti per tipologia di fibra tessile e colore con una potenzialità di trattamento di 4 tonnellate l'ora. La capacità di trattamento dell'impianto sarà di circa 34.000 tonnellate annue di rifiuti tessili. Il costo complessivo è di 18 milioni di euro di cui si punta a finanziarne due e mezzo col PNRR. Il resto è investimento pubblico e Alia assicura l'Hub si farà anche se il progetto non dovesse essere ammesso. Prato l'ha sempre fatto, io non credo ci sia altro luogo se non qui dove si possa fare, portare a livello scientificamente più avanzato il lavoro che i nostri scienciaioli hanno sempre fatto negli ultimi 150 anni. Quindi abbiamo il dovere, proprio perché vogliamo investire sul nostro futuro, di provarci. Poi non sarà facile, è un bando nazionale, non sappiamo chi parteciperà, non sappiamo che saranno gli esiti, ma certo è che se non ci scommette Prato, se non ci investe Prato sul proprio futuro e non ci investe un tipo di infrastruttura del genere, francamente non saprei chi lo dovrebbe fare. L'Hub si candida come struttura di riferimento per la selezione e il riciclo degli indumenti della Toscana e dell'Italia centrale. Dieci i mezzi pesanti previsti, quindi con un minimo di 20 corse giornaliere. Il capannone conta di dare lavoro a 50 addetti e sorgerà più precisamente in un'area di 21.000 metri quadrati. Una parte già in uso ad Alia, come deposito di bidoni della spazzatura, un'altra parte attualmente occupata dai campi da calcio del Paperino che saranno spostati in Via Lille. Questa localizzazione, che ha vinto contro altri 13, dove le abitazioni sarebbero state troppo vicine o ci sarebbe stato rischio idraulico, ha fatto storgere la bocca ai comitati di Fontanella e Paperino, ma ha suscitato malumori nello stesso Partito Democratico. Durante la presentazione del progetto, in Salone Consiliare, Biffoni ha lanciato un messaggio chiaro ai suoi. A 14 giorni dalla scadenza del bando, per il PNRR, ma equivalgono a no, non è possibile galleggiare. Siccome questo è un documento che è lì da più di un anno, tra un po', che è stato presentato pubblicamente, c'è un lavoro alle spalle, la politica invece sa di cosa si sta parlando e francamente, ecco, in alcuni casi sostenere sì io lo voglio fare ma diventa difficile da comprendere, questo sì, fatemelo dire. Un impianto a impatto zero sull'ambiente, precisa il presidente di Alia Nicola Ciolini a proposito del lab del riciclo del tessile, candidato per i fondi messi a disposizione dal PNRR e anche il polo di essiccamento dei fanghi trattati da Gida in fase di progettazione esecutiva. Un enorme passo avanti nel mettere in pratica quelli che sono i principi dell'economia circolare attraverso quello che a Prato è sempre stato fatto da anni, cioè scegliere, selezionare gli abiti e a questo aggiungerci una parte innovativa che tra l'altro ha sviluppato Tecnotessili per eliminare la parte plastica di elastomero dai filati in modo che questi possano essere riavviati all'industria. Oggi buona parte di questo materiale invece va a smaltimento, quindi credo che sia un enorme passo in avanti. L'impatto di questo impianto è zero perché è tutto un trattamento meccanico e questo naturalmente richiede anche degli investimenti ma che sicuramente a lungo termine avranno anche delle ricadute positive, sia per i cittadini sia per le imprese e naturalmente avranno sul proprio territorio della materia prima nuovamente da lavorare. Investimenti da parte dei cittadini, una prima parte? Investimento falia, questo è un intervento che non ricade in bolletta. Non solo Abdel Tessile ma anche le sticcatorie di Gida, cosa serve, quanto costa, potrebbe essere finanziato al 100%? Sì esatto, questo è un progetto che era già previsto nel piano complessivo del rinnovamento dell'impianto di Bacia Cavallo. È un impianto che serve a asciugare gli scarci della depurazione delle acque, i famosi fanghi di depurazione, trasformando 10.000 tonnellate di fango secco l'anno in meno di 3.000 tonnellate di fango secco. Quando è uscito il bando ci siamo accorti che rientrava in una delle linee finanziabili fino a 10 milioni di euro, il nostro impianto costa tra i 7 e gli 8 milioni di euro, quindi rientra pienamente, quindi siamo fiduciosi, avendo già un progetto stato avanzato, di poter riuscire a ottenere queste risorse. E non sono mancate le prime reazioni alla notizia della realizzazione del hub per il tessile. Se CGL e Cisle Will salutano con favore il progetto, il Comitato Prato Sud protesta e Fratelli d'Italia accusa l'amministrazione di aver scelto l'ubicazione senza consultare il Consiglio Comunale. La futura realizzazione di un hub per il riciclo del tessile ha diviso la città tra favorevoli, contrari e favorevoli con riserva. A salutare con soddisfazione il progetto sono CGL e Cisle Will. È un primo passo che candida Prato a essere rinnovata protagonista nel nostro paese con uno sguardo nella logica europea, dicono i sindacati, per i quali il progetto dell'hub può e deve offrire anche nuova occupazione stabile e di qualità con la creazione di nuove competenze. Di opportunità ha parlato anche l'imprenditore tessile e consigliere delegato di Confindustria Toscana Nord Francesco Marini. L'hub tessile farà fare un passo nel futuro al distretto tessile da un punto di vista di cominciare a investire sull'economia circolare, vuol dire anche trovare delle sinergie con gli impianti esistenti sul territorio per poter fare quel passo in più a cui ci obbliga l'Europa per poter tendere a quel 100% di riciclabilità che ci sta chiedendo in un'ottica futura. Un no forte all'opera, soprattutto per la scelta dell'ubicazione e del mancato coinvolgimento dei cittadini, arriva dal Comitato Ambientale Difendiamo la Nostra Salute Prato Sud. L'ennesimo passo verso la definitiva rottura di un equilibrio ormai precario, scrive il Comitato, quando la finiranno di martirizzare le frazioni sud di Prato. Con quale arroganza la classe politica impone le decisioni prese nelle segrete stanze, eludendo e calpestando ogni principio normativo sulla partecipazione della popolazione, si domanda il Comitato, che poi aggiunge come da tempo i cittadini delle frazioni sud di Prato hanno fatto presente la situazione da loro definita insostenibile dei luoghi in cui vivono. Siamo il terzo mondo di Prato, aggiunge con amarezza il Comitato. C'è poi la posizione dei fratelli d'Italia, con i consiglieri Cocce e Belgiorno, che si dicono favorevoli all'opera per i benefici che porterà la città, ma contrario alla scelta del luogo e per il mancato coinvolgimento dei residenti e del Consiglio Comunale. Non sono bastate le proteste negli anni dei cittadini e dei comitati nella zona di Baciacavallo, dove le amministrazioni di centro-sinistra hanno permesso questa vicinanza e promiscuità tra aree industriali e abitative. Ora si annuncia la creazione di un nuovo impianto che impatterà ulteriormente in quelle zone, scrivono i consiglieri. Il PD e il Sindaco hanno scelto il sito per questo progetto durante una riunione di partito. I percorsi partecipativi e il Consiglio Comunale sono stati scavalcati, lamentano Cocce e Belgiorno. Luca Giusti è stato rieletto Presidente di Confartigianato e Imprese Prato, suo terzo mandato alla guida dell'Associazione. Noi siamo per proporre, collaborare e condividere e questo sarà uno degli obiettivi principali, essere attori e non spettatori su questo palcoscenico che è il distretto pratese. Quello che faremo, quello che riusciremo a fare o quello che non faremo sarà solo e soltanto nostra responsabilità. Ha lanciato una vera e propria sfida verso il futuro, senza usare giri di parole, Luca Giusti, confermato Presidente di Confartigianato e Imprese Prato. Ieri il direttivo dell'Associazione ha fatto il Presidente la nuova giunta che resterà in carica per il prossimo quadriennio. Un'elezione che si è svolta in un clima di serenità nata da un percorso, come specificato dallo stesso Presidente, democratico, che ha portato prima al rinnovo del direttivo, composto da 43 persone, il 45% delle quali sono nuovi membri, e poi alla composizione della nuova giunta. Insieme a Giusti, al suo terzo mandato alla guida di Confartigianato, di cui è anche Presidente regionale, sono stati riconfermati Stefano Crestini, Romano Mati, Fabrizio Campaioli, Paolo Nardi e Moreno Vignolini. Entrano poi in giunta Fabio Bandini, Elisa Colzi e Maria Luccarini. Nel prossimo quadriennio noi abbiamo sostanzialmente un obiettivo importantissimo, cioè quello di, usciti da questa pandemia, che pensavo ormai sia alla fine, affrontare i temi e le problematiche che questa pandemia ha lasciato nelle imprese, ma soprattutto ritornare a un confronto costruttivo con le altre associazioni. Ricordo a tutti che Rete Imprese ha terminato la sua vita, il suo corso a livello nazionale, qui su livello pratese ha dato veramente grande soddisfazione, non dico che voglio ricostruire o vogliamo ricostruire Rete Imprese, ma vogliamo ritornare a confrontarsi con le altre associazioni, con le istituzioni, per far sì che il nostro ruolo di rappresentanza delle stanze e delle esigenze delle imprese trovi una corrispondenza anche con gli altri corpi intermedi, ma soprattutto con le istituzioni. Nella prossima riunione di giunta verranno nominati due vicepresidenti e il tesoriere, la nuova presidente del Movimento Donne Imprese a Prato, Elisa Colzi, mentre Maria Lucarini è stata nominata presidente del gruppo Giovani Imprenditori Prato. Una tradizione di famiglia in qualche modo, sono onorata veramente di far parte di questa squadra e anche in qualche modo gravata di un senso di responsabilità importante perché il momento storico che stiamo attraversando non è banale per l'impresa, per le professioni, per tutti veramente e quindi ci attendono delle sfide importanti e ognuno di noi che facciamo parte di questo gruppo con competenze diverse e sono convinta che daremo il nostro meglio. Rapinata e picchiata è in pieno centro. La vittima è un'operatrice sanitaria di 40 anni, cittadina filippina che aveva terminato il turno di lavoro presso una casa di cura. Mentre transitava in bicicletta da Piazza Sant'Agostino è stata affiancata da due uomini, anch'essi in bici, che hanno tentato di strapparle la borsa. La donna è caduta a terra, ha estratto il cellulare per chiamare i soccorsi, ma i due rapinatori glielo hanno strappato di mano, prendendola a calci per poi fuggire. Sul posto è giunta la polizia che ha acquisito una prima testimonianza sugli autori della rapina, due uomini di colore, mentre la vittima è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. La polizia ha recuperato il telefono della vittima nel complesso abbandonato di Villa Cristina, ex sede della Croce Rossa, divenuto da tempo di covero abusivo per molti cittadini senza fissa dimora, identificato e denunciato per ricettazione un 33enne incensurato e richiedente asilo politico, trovato in possesso del cellulare che ha detto di aver ricevuto da un connazionale. Le indagini della squadra mobile proseguono per verificare la versione fornita dal 33enne e risalire ai responsabili della rapina. Furti sulle auto e i camion dei corrieri usando disturbatori di frequenza, i carabinieri hanno tratto in arresto due fratelli che agivano nel macrolotto, numerosi colpi messi a segno, vediamo. Usando i jammer, ovvero dei disturbatori di frequenza, rubavano borse, contanti e carte di credito d'auto e camion dei corrieri in sosta, ad agire una coppia di fratelli di origine serba ma andate a Prato, attivi nel macrolotto. Il modus operandi era semplice, usando i disturbatori di frequenza e due impedivano che i telecomandi per la chiusura dei veicoli entrassero in funzione. I proprietari credevano di aver chiuso auto e camion, che invece rimanevano aperti per l'opera di disturbo dei due fratelli, che poi agivano fulminamente, rubando gli oggetti custoditi negli abitacoli. Borse, contanti, incassi delle consegne dei corrieri, carte di credito con le quali andavano a fare acquisti immediati ai gigli. I furti probabilmente andavano avanti da tempo. I carabinieri erano sulle tracce dei due e li hanno colti in flagrante mentre rubavano una borsa da un'auto. Ne è nato un inseguimento, proseguito anche a piedi, fino all'arresto dei due fratelli già conosciuti per i numerosi precedenti. Era un sistema particolarmente ingegnoso e anche tecnologico. Con questi jammer, ormai si trovano anche libero commercio, su internet soprattutto, questi due fratelli sono riusciti a commettere diversi furti, soprattutto nei macrolotti, ai danni di commercianti e danni di cittadini che si ricavano lì per gli acquisti più disparati. Ovviamente le persone ignare e pensando di aver chiuso la loro macchina, invece con questi sistemi la macchina non veniva chiusa e loro potevano in qualche modo razziare tutto ciò che era all'interno. Molto spesso borsi, oggetti personali, ma soprattutto nei casi di corrieri anche incassi di persone che avevano pagato per i beni ricevuti. Siamo al bollettino Covid e diminuiscono i casi registrati a Prato e in Toscana. Le nuove positività nella nostra provincia sono oggi 463 e c'è un'altra vittima. In Toscana i decessi odierni associati al Covid sono 27, da media 82 anni. Ancora in calo i ricoverati negli ospedali toscani sono 1.406, 43 in meno rispetto a ieri, di cui 96 in terapia intensiva, 2 in meno. Oggi 4 febbraio la Chiesa di Prato ha celebrato la festa liturgica di Santa Caterina dei Ricci, compatrona della città e della diocesi. Nella Basilica di San Vincenzo il Vescovo Giovanni Nerbini ha preseduto la messa animata dalle monache domenicane. Per questo monastero il 2022 sarà un anno speciale perché ricordano i 500 anni dalla nascita della Santa. Per omaggiare lo speciale anniversario per tutto il mese di febbraio, a partire dalle ore 17, TV Prato trasmetterà dalla Basilica di San Vincenzo la recita del rosario e la celebrazione della messa feriale. Tornando alla messa di oggi, nell'Omelia il Vescovo Giovanni ha fatto riferimento al tema della vita e al cosiddetto inverno demografico, invocando l'intercessione della Santa per infondere il coraggio di aprirsi al miracolo della vita nuova da parte delle nuove generazioni. Sentiamo un passaggio delle parole di Monsignor Nerbini. Manca il coraggio, ma sarebbe più giusto dire la fede nel Signore per accogliere a braccia aperta il miracolo della vita nuova. Chiediamo alla nostra amata copatrona di aprire le menti e i cuori di tutti noi, dei giovani sposi, degli educatori che crescono le nuove generazioni. Ed è stata rinviata a data da destinarsi la cerimonia di premiazione dello Stefanino d'Oro, il riconoscimento che la città di Prato conferisce alle aziende capaci di avere successo nel rispetto delle regole e della concorrenza. Il comitato promotore del premio, formato da Diocesi, Comune e Provincia di Prato, Comune di Montemurlo, Camera di Commercio e Fondazione Cassa di Risparmi a causa dell'emergenza sanitaria in corso, ha infatto deciso di rinviare la cerimonia di consegna del premio, inizialmente prevista per sabato 12 febbraio. Prossimamente verrà comunicata la nuova data. Ricordiamo che i vincitori della dodicesima edizione del premio Santo Stefano sono un'azienda meccanica e due del comparto tessile, BB Spa, Marini Industrie e Manifatture Igea. Si è chiusa oggi la novantesima edizione di Pitti Filati alla stazione Leopolda di Firenze, 24 aziende pratesi, cui si aggiungono altre imprese fornitrici di beni o servizi per il settore che hanno preso parte alla fiera, dedicata alla stagione primavera-estate 2023. Il bilancio in termini di affluenza è positivo, nonostante ancora si avvertano gli effetti della pandemia. Questi tre giorni di Pitti sono stati molto positivi, il bilancio che possiamo trarre dal terzo giorno di fiera è sicuramente un'affluenza buona di clienti, soprattutto italiani e parzialmente europei. Naturalmente siamo ancora in una fase di pandemia molto accentuata, si sapeva fin dall'inizio che gli asiatici e anche gli americani non sarebbero venuti. Nonostante questo alcuni americani sono venuti e questo ci fa molto piacere perché comunque valutano la fiera un'esperienza molto importante per la scelta di Pitti Filati per la prossima stagione. Noi siamo contenti di aver visto persone, chiaramente è arrivato in un momento in cui con la pandemia di nuovo c'erano le frontiere un po' chiuse, quindi gli stranieri non ne abbiamo visti molti, però vedere già qualcuno noi siamo contenti, quelli che ci sono stati sono comunque i nostri clienti e tanti anche nomi interessanti, quindi bilancio per me nella situazione attuale è positivo. La macro tendenza che tutti noi abbiamo in questa fiera è rispetto alla sostenibilità, quindi certificazioni a tutto tondo, non soltanto certificazioni della fibra ma anche dei processi produttivi. Questo è un po' il nostro obiettivo per il futuro. infatti abbiamo una collezione che in questo momento è il 95% con certificazioni di sostenibilità, sia di processo che di materia prima. Un Pitti Filati di grande successo, con un'affluenza superiore alle attese, certamente erano attese conservative avendo la sensazione che dal resto del mondo non sarebbe stato facile raggiungerci, ma dobbiamo dire che l'afflusso e la presenza sono stati veramente molto positivi, soprattutto nella giornata di ieri e dell'altro ieri. È un Pitti Filati di ribartenza un po' per tutti, dopo un anno buono, il Tesla in generale, l'anificio dell'olivo ha fatto ancora meglio del mercato, quindi siamo molto soddisfatti. Presentiamo in questa edizione una collezione spero molto interessante, sempre forte il tema della sostenibilità. Ovviamente noi presentiamo 12 filati nuovi in collezione, sono tutti sostenibili e certificati. Individuati dai carabinieri responsabili che ieri hanno dato fuoco alla corona dall'oro deposta nel giorno della memoria davanti al monumento ai caduti in guerra in piazza della riconciliazione a Poggia Caiano. Si tratta di una sedicenne e di un quattordicenne di origini stranieri, ma entrambi nati in Italia. Il gesto sarebbe stato dettato da motivi di risentimento dei due giovanissimi nei confronti del nostro paese. Obiettivo dei due sarebbe stato proprio la coccarda tricolore attorno alla corona dall'oro. Sembra inoltre che i due abbiano proferito frasi di disprezzo verso l'Italia. Sono stati denunciati per danneggiamento e vilipendio ai simboli dello Stato. I genitori convocati dai carabinieri hanno espresso profondo dispiacere per il gesto dei figli. Si tratta di un atto gravissimo che colpisce la memoria della nostra storia, ha commentato il sindaco Francesco Pugelli. I cittadini toscani potranno accedere a visite gratuite di prevenzione contro il cancro al seno e il melanoma grazie alla collaborazione tra Fondazione Ant, Banco Fiorentino e Villa Donatello. Fondazione Ant, Banco Fiorentino e Villa Donatello tornano a lavorare insieme per la prevenzione dei tumori. Partono infatti questo mese il progetto Mammella e il progetto Melanoma che offriranno screening gratuiti ai cittadini toscani grazie al finanziamento offerto da Banco Fiorentino. È un appuntamento a cui teniamo in maniera molto profonda, rientra nella nostra filosofia. In questo momento in particolare la prevenzione, visto anche purtroppo la condizione che stiamo attraversando per effetto della pandemia, la prevenzione è ancora più fondamentale proprio per cercare di sopperire a quelle che sono le pressioni che in questo momento sono sulle strutture ospedaliere. Il calendario di Ant prevede quattro sessioni di visite senologiche sia per le donne sopra i 45 anni che per quelle sotto i 45 anni, nelle due sedi di Firenze e Sesto Fiorentino di Villa Donatello. Il primo appuntamento giovedì 24 febbraio con 12 visite senologiche per donne under 45 a Firenze. Il progetto Melanoma prevede invece sei sessioni di visite gratuite per un totale di 144 pazienti, cinque nelle due sedi di Villa Donatello e una per i residenti nei comuni del Mugello che si terrà presso l'Istituto di Bioscienze a Borgo San Lorenzo. Sono già disponibili 24 visite gratuite per la data di venerdì 25 febbraio presso Villa Donatello a Firenze. Altre informazioni sono disponibili nella sezione prevenzione del sito ant.it slash Toscana. Nonostante le difficoltà causate dalla pandemia, Ant è rimasta sempre attiva per garantire cure domiciliari ai malati di tumore e occasioni di screening. La fondazione Ant è rimasta attiva anche durante il periodo della pandemia e è stata probabilmente un importante supporto anche alla sanità pubblica perché abbiamo potuto garantire alle persone l'assistenza domiciliare e quindi il poter rimanere a casa invece che recarsi in ospedale. Ed è il momento dell'agenda, diamo uno sguardo a tutti gli appuntamenti previsti domani a Prato ed intorni. Appuntamento domattina in piazza del Mercato Nuovo con il Mercato di Terra di Prato. Alle 16 al Museo di Palazzo Pretorio incontro con Francesco Bonami, curatore della mostra iWomen alla Notizia del Futuro e la direttrice del Museo Rita Jacopino. Alle 17 al Teatro Fabricone per la rassegna a Mette Ragazzi, lo spettacolo Odds. Alle 17.30 alla Biblioteca Lazzerini, presentazione del libro di Laura Mori, Diventare padre, sguardi sulla paternità interiore. Doppio appuntamento domani con il cinema al Centro Pecce, alle 18 proiezioni del film La Metamorfosi degli Uccelli in versione originale con sottotitoli in italiano e alle 21.15 Drive My Car. Prosegue fino a domenica al Teatro Metastasio, lo spettacolo La Coscienza di Zeno, regia di Stefano Cortella e Noemi Radice. Ed è tutto per questa edizione, vi lasciamo al metro a cura del Consorcio LAM, a seguire intorno alle 9 ospite di questa sera la parlamentare pratesi di Forza Italia Erika Mazzetti. Il TG torna domani in diretta alle 13.45. Grazie per l'attenzione e arrivederci. Stop! Purtroppo questo non succede solo nei film, ma se vuoi stare tranquillo un modo c'è, affidati a veri professionisti. Prato all'armi, una sicurezza da Oscar. Abbiamo scelto gli uomini giusti, perché vogliamo che i nostri clienti si sentano protetti ma anche sereni. Prato Polli. Professionisti della sicurezza, non guardie. Una buona serata a tutti. Iniziamo dando uno sguardo alla carta della pressione al suolo prevista per le ore 13 di domani. Possiamo osservare un'ampia area di alta pressione che interessa tutto il Mediterraneo occidentale. La Spagna, la Francia si estende anche alla nostra penisola. C'è una lieve, una debole depressione proprio sul Golfo Ligule e sul Tirreno. Depressione che attiva un debole flusso occidentale anche sulla nostra regione, quindi porta aria più umida con un po' di nuvolosità. Andiamo a vedere infatti la previsione per la giornata di domani. Mattinata cielo fra parzialmente nuvoloso e nuvoloso con possibilità anche di qualche isolata e debole pioggia, in particolare sulle zone centrali fra Livorno, Firenze e Arezzo. Si tratta comunque di fenomeni molto isolati e tutto sommato di scarso rilievo. Le temperature minime stazionarie o il lieve aumento intorno ai 6-10 gradi. Per quanto riguarda il pomeriggio invece atteso un miglioramento, cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso su tutte le zone più occidentali, nord-ovest in particolare. Addensamenti residui invece sulle zone più interne, ancora con qualche locale debole pioggia sull'Appennino a Retino, ma il tempo comunque migliora poi rapidamente anche sulle zone più interne. La giornata di domenica infatti vede inizialmente un cielo sereno ovunque, ma con un po' di nebbia sulla valle dell'Arno. Lo vedete, abbiamo indicato nella grafica un po' di nebbia che poi tenderà a dissolversi nel corso della mattinata. Nel pomeriggio cielo inizialmente sereno, ma con tendenza poi ad aumento della nuvolosità a partire dalle zone nord-occidentali, soprattutto fra il tardo pomeriggio e la sera. Le temperature stazionarie intorno ai 12-14 gradi. È tutto per oggi, grazie per l'attenzione e buona serata.